Procedura civile, lezione numero 18, l'appello. Argomenti trattati in questa lezione. Introduzione, sentenze appellabili ed il giudice di appello, la natura del giudizio di appello, effetto devolutivo ed effetto sostitutivo, forma dell'appello principale e forma dell'appello incidentale, la riproposizione di domande ed eccezioni non accolte, l'intervento in appello, il divieto di domande, eccezioni e prove nuove in appello, inammissibilità e manifesta in fondatezza dell'appello, la trattazione e decisione e la rimessione della causa al primo giudice. Introduzione. L'appello rappresenta di norma il secondo grado di merito nel sistema processuale civile ed è utilizzato per impugnare le sentenze emesse in primo grado. Nelle procedure d'appello dinnanzi alla Corte d'appello o al Tribunale si applicano per quanto possibile le norme previste per il procedimento di primo grado davanti al Tribunale, a meno che non siano incompatibili. Sebbene di norma le sentenze di primo grado siano soggette all'appello, vi sono eccezioni in cui quest'ultimo è escluso, e cioè per le sentenze messe in unico grado. La Corte Costituzionale ha negato la protezione costituzionale al principio del doppio grado di merito, consentendo quindi la presenza di sentenze in un unico grado che possono essere impugnate esclusivamente attraverso il ricorso per Cassazione. Va sottolineato che, nonostante la possibilità di rinunciare al secondo grado di merito, permare l'obbligo di garantire il diritto al ricorso per Cassazione, ammesso sempre per violazione di legge, non solo contro le sentenze, ma anche contro ogni altro provvedimento diverso, purché sia decisorio e definitivo. Le sentenze appellabili ed il giudice di appello. L'appello è un mezzo di impugnazione utilizzato per contestare le sentenze emesse in primo grado, salvo eccezioni previste dalla legge o da accordi tra le parti. Le sentenze di primo grado sono normalmente appellabili, ma possono essere escluse dall'appello per disposizione di legge, cosiddetta equità necessaria, o per accordo tra le parti, cosiddetta equità concordata, allo scopo di ricorrere direttamente in Cassazione. Le sentenze pronunciate secondo il principio dell'equità, su richiesta delle parti o in base a disposizioni di legge, non sono soggette all'appello, ad eccezione dei casi in cui si verifichi una violazione delle norme procedurali, una violazione delle norme costituzionali, o una violazione dei principi che regolano la materia. L'appello contro le sentenze di equità necessaria è quindi limitato al controllo della violazione di legge. Il giudizio equitativo si distingue dal giudizio secondo diritto, perché consente al giudice di disapplicare le regole giuridiche in senso stretto e valutare il caso concreto in modo equo, pur rispettando i principi informativi della materia. Tuttavia, il giudizio equitativo non è completamente libero dalle regole giuridiche e il controllo in appello è limitato a tali principi. Il tribunale è competente per l'appello contro le sentenze del giudice di pace, mentre la Corte d'Appello è competente per l'appello contro le sentenze del tribunale nella circoscrizione in cui il giudice ha pronunciato la sentenza. La natura del giudizio di appello, effetto devolutivo ed effetto sostitutivo. L'appello è un mezzo di gravame che comporta due effetti principali, l'effetto devolutivo e l'effetto sostitutivo. L'effetto devolutivo implica il trasferimento dell'intera causa dal giudice di primo grado al giudice d'appello. Questo significa che il giudice d'appello esamina l'intero oggetto della controversia decisa in primo grado devoluto a lui a causa dell'appello. Tuttavia l'effetto devolutivo non è totale, poiché ci sono principi da rispettare, come ad esempio l'acquiescenza parziale o tacita qualificata, e la necessità di specificare i motivi d'appello, nonché l'onere di riproporre domande ed eccezioni non accolte. L'effetto sostitutivo che descrive l'effetto della sentenza d'appello, quindi l'effetto sostitutivo invece descrive l'effetto della sentenza d'appello rispetto a quella impugnata. La sentenza di secondo grado può sostituirsi integralmente alla sentenza impugnata, confermandola, modificandola parzialmente o annullandola. Tuttavia l'effetto sostitutivo ammette eccezioni, come quando la sentenza d'appello annulla la decisione impugnata e rinvia il giudice di primo grado per una nuova decisione nel merito. Forma dell'appello principale ed incidentale. La costituzione dell'appellante e dell'appellato. Nel rito ordinario di cognizione l'atto introduttivo dell'appello è la citazione che è disciplinata dall'articolo 342 del codice di procedura civile come modificato dalla riforma cartabia. L'ultimo comma dell'articolo 342 indica espressamente il termine per comparire che non deve essere inferiore a 90 giorni liberi se la notificazione avviene in Italia e a 150 giorni se la notifica avviene all'estero. È importante sottolineare che, tenendo conto della continuità tra le dinamiche del primo e quelle del secondo grado, se il giudizio di primo grado viene introdotto con un ricorso, anche l'appello segue le stesse forme. Secondo il riformato articolo 342, oltre agli elementi della citazione di quell'articolo 163, l'atto d'appello deve essere motivato e indicare per ciascun motivo appena di inammissibilità il capo della sentenza appellata, le censure alla ricostruzione dei fatti, le violazioni di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. Ogni censura deve essere rivolta verso il singolo capo della decisione impugnata, non richiedendo più l'indicazione delle parti del provvedimento da appellare. Inoltre, le deduzioni, in ciascun motivo, devono essere espresse in modo chiaro, sintetico e specifico. L'appellato si costituisce mediante comparsa di risposta, secondo le stesse forme e termini previsti per i procedimenti davanti al Tribunale. L'appello incidentale deve essere inserito nella comparsa di risposta depositata almeno 20 giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione o dell'udienza differita secondo l'articolo 349 bis del Codice di procedura civile. Se l'interesse a proporre l'appello incidentale sorge dall'impugnazione proposta da una parte diversa dall'appellante principale, tale appello deve essere proposto nella prima udienza successiva alla proposizione dell'impugnazione stessa. Anche l'appello incidentale può essere tardivo esenzio nell'articolo 334. L'appello incidentale tardivo è ammissibile a differenza dell'appello proposto fuori termine che è inammissibile. Una volta notificato l'atto di appello, la causa viene iscritta al ruolo su iniziativa dell'appellante all'atto della sua costituzione tempestiva che, a norma dell'articolo 165, deve avvenire entro 10 giorni dalla predetta notificazione così come avviene nel giudizio di primo grado. L'appellante deve inserire nel proprio fascicolo una copia della sentenza appellata mentre il cancelliere richiede la trasmissione del fascicolo d'ufficio al cancelliere del giudice di primo grado. A differenza del primo grado, in appello vige la regola secondo cui l'appello è dichiarato improcedibile se l'appellante non si costituisce nei termini. Questo è un provvedimento grave poiché l'appello dichiarato improcedibile non può essere riproposto anche se non è ancora scaduto il termine previsto dalla legge. La contumacia dell'appellante in appello è rara. Vi è solo un caso in cui l'appello può proseguire nonostante la mancata costituzione tempestiva dell'appellante principale ovvero se viene proposto un appello incidentale. In questo caso, l'appello incidentale deve costituirsi nei termini per evitare l'improcedibilità dell'appello incidentale mentre l'appellante principale viene dichiarato contumace se non si costituisce tempestivamente. L'improcedibilità dell'appello viene dichiarata inoltre se l'appellante non compare alla prima udienza nonostante si sia costituito in precedenza. In questo caso, il collegio, con un'ordinanza non impugnabile rinvia la causa a una prossima udienza della quale viene data comunicazione all'appellante. Se anche alla nuova udienza l'appellante non compare l'appello viene dichiarato improcedibile anche d'ufficio. La riforma cartabia ha specificato la forma del provvedimento con cui viene dichiarata l'improcedibilità dell'appello al fine di garantire un rimedio impugnatorio. Se è stato infatti nominato l'istruttore l'ordinanza reclamabile dinnanzi al collegio viene emessa da quest'ultimo. Se non è stato nominato l'istruttore la dichiarazione di improcedibilità viene emessa con una sentenza della Corte d'Appello o dal Tribunale agendo come giudice di secondo grado. La riproposizione di domande ed eccezioni non accolte. L'articolo 346 del Codice di Procedura Civile stabilisce che le domande e le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado che non vengono espressamente riproposte in appello si intendono rinunciate. Pertanto è responsabilità della parte che desidera che il giudice di secondo grado gli esamini, le domande ed eccezioni non accolte riproporle in modo esplicito. L'articolo 346 si applica non solo alle eccezioni rigettate ma anche a quelle che non sono state esaminate perché assorbite. Tuttavia, secondo la decisione nella sezione Unita della Corte di Cassazione sentenza 11.799 del 2017 esiste una differenza tra le eccezioni rigettate perché ritenute infondate e quelle che non sono state esaminate. Per queste ultime, quelle che non sono state esaminate è possibile una mera riproposizione mentre per le eccezioni rigettate in modo espresso o attraverso un'enuncezione indiretta che ne sottenda la valutazione di infondatezza è necessaria la devoluzione al giudice d'appello della sua cognizione. Inoltre, se le parti intendono proporre una questione di giurisdizione sarà necessario proporre un appello incidentale per devolverla al giudice di secondo grado sia che essa sia stata espressamente decisa dal giudice di prime cure sia che l'eccezione venga sollevata in grado d'appello per la prima volta in assoluto nell'ambito del processo. La situazione è parzialmente diversa per quanto riguarda le domande. Se una domanda è stata rigettata in primo grado non è sufficiente riproporla ma è necessario presentare un'impugnazione principale o incidentale. Al contrario, se una domanda è stata assorbita dalla sentenza di primo grado è sufficiente riproporla senza la necessità di un appello incidentale. È importante notare che l'appello incidentale deve soddisfare i requisiti di forma e sostanza stabiliti all'articolo 343 come ad esempio l'inserimento nella comparsa di risposta tempestivamente depositata. Questi requisiti non si applicano alla semplice riproposizione. Parliamo ora dell'intervento in appello. L'atto di appello può provenire solo da parti del giudizio di primo grado ed essere diretto nei confronti di parti dello stesso giudizio. Eccezione è il potere di proporre appello attribuito al successore a titolo particolare nel diritto controverso. Resta il problema dell'eventuale partecipazione di terzi alla fase dell'appello in via successiva che è affrontato da due diverse norme. L'articolo 334 ammette l'intervento di coloro che sarebbero legittimati a proporre l'opposizione di terzo ex articolo 404. Grazie a questa norma i terzi possono far valere le proprie ragioni ancora prima che sia emessa la sentenza che potrebbe pregiudicarli. L'articolo 111,3 del codice di procedura civile che prevede che in ogni caso il successore al titolo particolare può intervenire in giudizio e quindi anche nel grado di appello. Il divieto di domande, eccezioni e prove nuove in appello. Il codice diritto attuale prevede che il giudizio di appello sia limitato al riesame della decisione di primo grado e non sia in grado di accogliere nuove domande, eccezioni o prove. Tuttavia ci sono alcune deroghe a questa regola generale. Per quanto riguarda le domande in appello non è consentito proporre domande nuove e se lo si fa queste devono essere dichiarate inammissibili d'ufficio. La dichiarazione di inammissibilità non preclude la possibilità di riproporre tali domande in un diverso giudizio. Tuttavia è possibile domandare interessi, frutti e accessori che siano sorti dopo la sentenza impugnata così come il risarcimento dei danni subiti dopo la stessa sentenza. Queste sono definite domande conseguenziali e possono essere proposte nello stesso giudizio per ragioni di economia processuale a condizione che le domande corrispondenti per gli interessi, i frutti e risarcimento dei danni relativi al periodo precedente della sentenza di primo grado siano state già presentate in quel contesto. Altrimenti verrebbe meno la conseguenzialità delle domande. La proposizione di una domanda nuova inammissibile con la notificazione dell'atto di appello può tuttavia interrompere la prescrizione del diritto di credito connesso a tale domanda e la prescrizione non decorre fino a quando la sentenza che definisce il giudizio diventa definitiva. Per quanto riguarda le eccezioni è vietato proporre nuove eccezioni in appello a meno che queste non siano rilevabili anche d'ufficio. La razio, dal momento che le eccezioni possono essere sollevate anche d'ufficio non ha senso precludere tale potere alla parte. Per quanto riguarda le prove di regola non sono ammessi nuovi mezzi di prova o nuovi documenti in appello tuttavia ci sono due deroghe a questa regola generale è consentito presentare mezzi di prova che la parte non ha potuto produrre o proporre nel giudizio di primo grado per cause non imputabili a essa. Inoltre è possibile deferire il giuramento decisorio come estrema razio per consentire al giudice di prendere una decisione. Nel rito lavoro, a differenza del rito ordinario vè la possibilità di ammettere in appello i mezzi di prova che il collegio ritenga indispensabili per la decisione. Sulle prove indispensabili le sezioni unite della Corte di Cassazione hanno stabilito che sono considerate indispensabili solo quelle prove nuove che eliminano ogni possibile incertezza nella ricostruzione dei fatti e sono decisive per la decisione del giudizio. Inammissibilità e manifesta infondatezza dell'appello la riforma cartabbia ha eliminato il filtro in appello per le impugnazioni prive di probabilità di accoglimento introducendo una decisione semplificata con discussione orale. Il giudice può considerare l'appello inammissibile o manifestamente infondato estendendo la valutazione prognostica anche al merito. Questo consente una chiusura anticipata del processo previa ammissione delle parti alla discussione orale al fine di provocare il contraddittorio. Tuttavia, se viene proposto un appello incidentale la decisione semplificata si applica solo se sia l'appello principale che quello incidentale sono inammissibili o manifestamente infondati per l'intero processo altrimenti il giudice deve esaminare tutte le impugnazioni. La trattazione e la decisione Il Decreto legislativo 149 del 2022 quindi la riforma cartabbia ha introdotto importanti innovazioni nella fase di trattazione dell'appello che a seguito della riforma dell'articolo 350 del codice di procedura civile non richiede necessariamente una composizione collegiale. Il Presidente del Tribunale o della Corte effettua una valutazione preliminare del caso sulla base della quale può scegliere tra due modalità procedurali alternative e cioè nominare un giudice relatore e fissare un'udienza per la discussione orale davanti al collegio oppure designare un giudice istruttore tra i membri del collegio per la trattazione. La scelta dipende dalla complessità della causa favorendo la decisione semplificata con discussione orale ai sensi dell'articolo 350 bis per i casi più semplici mentre riserva una trattazione più approfondita per le cause più complesse. Nella Corte d'Appello durante la fase di trattazione il caso viene affidato all'istruttore ma la decisione rimane collegiale. Invece davanti al Tribunale l'appello è trattato e deciso da un giudice monocratico a articolo 350,1 del codice di procedura civile. Nella prima udienza di trattazione che può essere posticipata fino a un massimo di 45 giorni il giudice svolge verifiche preliminari riguardante la regolare costituzione del processo e, se necessario, ordina l'integrazione del contraddittorio o la notificazione prescritta all'articolo 332. Inoltre il giudice dichiara la contumacia dell'appellato o dispone la rinnovazione della notificazione dell'atto d'appello ed eventualmente riunisce gli appelli presentati contro la stessa sentenza. L'istruttore può anche tentare la conciliazione ordinando la comparizione delle parti e prende decisioni in merito a eventuali richieste istruttorie impartendo disposizioni per l'assunzione di prove. In questa fase l'istruttore potrebbe anche decidere di adottare la decisione semplificata con discussione orale ai sensi del 350 bis qualora rilevi una delle situazioni previste dall'articolo 348 cioè manifesti in fondatezza o inammissibilità dell'impugnazione oppure se l'appello appare manifestamente fondato o ancora se lo ritengo opportuno in ragione della ridotta complessità o dell'urgenza della causa. Tali valutazioni replicano quelle che deve effettuare il presidente tuttavia in questa fase l'istruttore potrebbe individuare elementi che inizialmente non erano emersi. Durante la prima udienza si può anche decidere sulla richiesta di sospensione dell'esecuzione provvisoria della sentenza di primo grado detta anche istanza inibitoria. In caso di presentazione di un'impugnazione per querela di falso durante l'appello il giudice, se ritiene che il documento impugnato sia rilevante per la decisione della causa, sospende il processo e dà alle parti un termine per riassumere la causa di falso davanti al tribunale. Si è detto in precedenza che durante l'appello l'attività istruttoria è generalmente vietata tranne in casi eccezionali. Tuttavia, se il giudice d'appello ordina l'assunzione di una prova o la ripetizione totale o parziale di prove già assunte in primo grado o da disposizioni che richiedono il proseguimento del procedimento emette un'ordinanza e provvede in conformità agli articoli 191 e seguenti. L'assunzione delle prove è affidata all'istruttore se nominato o al relatore. Inoltre, il collegio può disporre di propria iniziativa la ripetizione di una o più prove assunte dall'istruttore se ritiene che sia necessario. Ripeto questo paragrafo. Inoltre il collegio può disporre di propria iniziativa la ripetizione di una o più prove assunte dall'istruttore se ritiene che sia necessario. Questo lo prevede l'articolo 356,2 come modificato dalla riforma cartabile. Infine, se viene presentato un appello immediato contro una sentenza non definitiva il giudice d'appello può disporre nuove prove riguardo alle domande e alle questioni rispetto alle quali il giudice di primo grado non definendo il giudizio abbia disposto con separata ordinanza alla prosecuzione dell'istruzione. Passando alla fase decisionale questa può svolgersi in due modi attraverso un modulo semplificato orale e un modulo ordinario a trattazione scritta. In entrambi i casi la decisione è sempre collegiale. Secondo il nuovo articolo 350 bis nei casi di impugnazione inammissibile o manifestamente infondata o di appello manifestamente fondato nonché nelle situazioni di ridotta complessità o urgenza la decisione viene presa dopo una discussione orale. L'istruttore invita le parti a precisare le conclusioni e fissa un'udienza davanti al collegio per la discussione orale stabilendo un termine per la presentazione di note conclusive prima dell'udienza. Nell'udienza l'istruttore relatore espone oralmente il caso nel caso in cui il presidente decida una decisione con discussione orale non è richiesto il deposito di note. Il collegio al termine della discussione dopo una delibera in camera di consiglio pronuncia la sentenza leggendo il dispositivo ed una motivazione sintetica. Il collegio può riservare il deposito della sentenza nei successivi 30 giorni. Nel caso in cui il presidente nomini di istruttore nel procedimento ordinario e non si verifichino le condizioni per una discussione orale semplificata dopo la trattazione e l'eventuale assunzione di nuove prove o ripetizioni di prove già assunte in primo grado l'istruttore fissa davanti a sé l'udienza di remissione della causa in decisione e assegna alle parti salvo rinuncia i seguenti termini perentori un termine superiore a 60 giorni prima dell'udienza per il deposito di note scritte contenenti solo le conclusioni un termine non superiore a 30 giorni prima dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali e un termine non superiore a 15 giorni prima dell'udienza per il deposito delle note di replica quindi 60, 30 e 15 nell'udienza l'istruttore rimette la causa al collegio per la decisione mentre nei casi di appello davanti al tribunale decisi da un solo giudice l'istruttore prende la decisione che deve essere depositata entro 60 giorni la rimessione della causa al primo giudice la rimessione della causa al primo giudice è un'eccezione al principio dell'effetto sostitutivo dell'appello in determinati casi l'appellante può sollevare motivi di nullità della sentenza impugnata senza che venga sostituita con una nuova decisione nel merito questo tipo di appello è consentito solo in presenza di motivi processuali e non può limitarsi alla censura di vizi di natura processuale ma deve coinvolgere anche il merito della decisione di primo grado il processo si suddivide in due fasi una prima fase in cui si annulla la sentenza impugnata e una seconda fase in cui si avvia un nuovo giudizio di merito affidato a un giudice dello stesso grado di quello che ha emesso la sentenza annullata le ipotesi di rimessione al primo giudice sono limitate e in seguito alla riforma cartabbia sono state ridotte ai casi di violazione del contraddittorio l'articolo 354 del codice di procedura civile descrive questi casi quindi se la notifica dell'atto introduttivo è nulla e si riconosce che nel giudizio di primo grado si è verificata un'omissione del contraddittorio o l'estromissione di una parte oppure se la sentenza di primo grado è nulla ai sensi dell'articolo 161 secondo comma il giudice d'appello pronuncia una sentenza di rimessione al primo giudice nel caso di rimessione le parti devono riassumere il processo entro tre mesi dalla notifica della sentenza di appello con un termine perentorio tuttavia se viene presentato un ricorso per cassazione contro la sentenza di appello il termine viene interrotto grazie Grazie a tutti